iniziamo dalla 1 dove ci sono code per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna, code per traffico intenso in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna, in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, sulla FIPILI per viabilità esterna che non riceve, code in uscita all'Astra Signa provenendo da Firenze, rallentamenti per viabilità esterna che non riceve, in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci, per la viabilità cittadina a Firenze per interventi sulla pavimentazione in piazza San Marco fino alle 18 di domani in vigore restringimenti di carreggiata all'altezza dell'incrocio con via Ricasoli, Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze, buon viaggio!